Vivere un'esperienza così, con loro, e non come volontario dall'esterno, come medico dall'esterno, eccetera, è una cosa diversa, cioè ti metti nei loro panni e uno dice, ma se io nascevo lì. Ecco la condivisione dell'umanità, la condivisione di essere persona. Ecco, questo è molto importante. Dal suo primo giorno di medico in pensione, il primo aprile 2022, il dottor Riccardo Poli ha deciso di vivere assieme a minori non accompagnati, ragazzi stranieri arrivati in Italia senza i loro genitori, che sono stati presi in carico dai servizi sociali di Prato e accolti in una casa della Fondazione Opera Santa Rita. Qui il dottor Poli, che del Santa Rita è direttore sanitario e nella sua carriera si è occupato a vario titolo dei percorsi di cura per immigrati, vive assieme a cinque ragazzi tra i 16 e i 17 anni di età, provenienti da Albania, Tunisia, Costa d'Avorio e Mali. Storie diverse, come quelle di altri ragazzi ospitati prima di loro nella stessa struttura, e in alcuni casi caratterizzate da risvolti drammatici. Arrivo in Italia ma soprattutto il viaggio, il viaggio che noi pensiamo vengono dalla Tunisia, vengono dalla Libia, in realtà sono soggetti che vengono da viaggi molto lunghi, a volte addirittura certi viaggi sono iniziati un anno prima di arrivare in Libia e poi prendere il barcone per venire in Italia. Quindi sono viaggi che sono fatti di sofferenze, di ricatti, di rapimenti, per i quali la famiglia deve pagare, quindi chiedere prestiti ai parenti, quasi sempre si trovano a poi dover pagare, non a dare i soldi alla famiglia lavorando, ma a dover pagare dei debiti pregressi. E poi ci sono le violenze fisiche, ci sono anche le torture, ci sono anche le sevizie, non sono per tutti, non è che tutti vengono così, però molti, anche nei centri per maggior anni, in cui faccio il medico di struttura, hanno subito torture e portano i segni fisici, di cui a volte si vergognano, di cui non vogliono parlare, sia perché hanno un blocco psicologico, perché tendono a dimenticare questi momenti così, e a volte per paura. L'accoglienza in un luogo sicuro, con degli adulti che si fanno carico delle loro necessità, è la prima risposta. A volte arrivano veramente senza il minimo necessario, quindi è importante poterli dare tutto quello di cui hanno bisogno per una prima accoglienza, che è poi quella che consente di metterli in sicurezza, farli sentire accolti, e magari piano piano aprirsi anche a raccontare le loro storie, quelli che sono i loro bisogni. Il mercoledì siamo andati a fare una lezione d'italiano, su Accadraia, quindi scriviamo la mattinata del mercoledì. Allora, che cosa possiamo scrivere? Siamo andati con il pulmino, con il, davanti sempre a un nome, ci vuole sempre un articolo, no? Sono ragazzi che devono imparare innanzitutto la lingua, quindi il pomeriggio sono impegnati in percorsi di alfabetizzazione, invece la mattina i ragazzi sono impegnati in varie attività che vengono organizzate appunto dalla Fondazione Opera Santa Rita, che possono essere l'alfabetizzazione digitale, può essere i corsi di italiano, un corso di orientering, che serve per l'esplorazione e la conoscenza del territorio e non ultimo anche dei corsi di cucina, perché qui i ragazzi devono raggiungere un'autonomia per quando usciranno dalla struttura. Come si conquista la fiducia di questi ragazzi? Ma secondo me si conquista, soprattutto col tempo, con l'esempio e poi con l'empatia, che l'empatia io ho sempre pensato è una bella parola ma si fa fatica a insegnarla, nel senso o uno ce l'ha o uno non ce l'ha. Soprattutto loro capiscono quando tu li tratti veramente come persone normali, cioè non fai né l'eccessivamente caritatevole né ti tieni sulle tue, ma come se fossero i tuoi ragazzi, come se fossero i tuoi ragazzi. Io ho due figli, quando passo la serata con i miei ragazzi, molti miei amici mi dicono ah finalmente li vedi, no guarda i miei ragazzi in questo caso sono i miei ragazzi di Prato. Cioè veramente la semplicità, questa è la prima cosa, è la semplicità.